Mister Pioli, lo scudetto è uno, ma quante volte bisogna vincerlo nel corso di una stagione? Tutte le partite, perché tutte le partite hanno significato tantissimo per il nostro percorso. E' chiaro che poi forse ci sono state partite che abbiamo definito più pesanti di altre, soprattutto probabilmente gli sconti diretti, ma poi dopo anche quelle che ci sembravano sulla carta è un pochettino più semplice, sono risultate molto invece complicate. Quindi credo che il successo sia dovuto soprattutto alla grande continuità che la squadra ha avuto, che i ragazzi hanno avuto all'inizio e alla fine, non perdendo mai di vista quello che era il nostro modo di giocare e non perdendo mai di vista quelle che erano le nostre qualità, le nostre caratteristiche e credendo soprattutto in quello che facevamo. Questo credo sia stato il segreto del nostro modo di lavorare insieme e soprattutto dei nostri giocatori. Poi lo scudetto arriva naturalmente all'ultima giornata, fischio finale di Reggio Emilia. Qual è stata la prima telefonata che ha fatto Mr. Pioli? Beh, la prima mia mamma perché non che non l'ho voluta allo stadio, ma non se l'ha sentita di venire, capisco anche il perché. Perché tutte le altre persone poi comunque invece erano tutte presenti allo stadio, sia i miei parenti, sia i miei amici più intimi, quelli che mi hanno seguito da sempre. Quindi a mia mamma perché era giusto così. Adesso la mamma sa che il suo Stefano ha vinto qualcosa di importante. Sì, 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 lo sa, lo sa. Ma è sempre stata comunque orgogliosa, comunque felice per il mio cammino. Perché da bambino sognavo di fare il calciatore, mentre facevo il calciatore sognavo di fare l'allenatore. Quindi ho fatto tutto quello che desideravo e credo che sia la cosa più bella per una persona cercare di far diventare la propria passione un lavoro. Quindi chiaramente i miei genitori mi sono sempre stati vicini. Siamo tre fratelli, mio padre faceva il doppio lavoro. Insomma, una famiglia come tante con la grande passione del pallone. Anche a Carlo Ancelotti ogni tanto, nei primi anni della sua carriera, dicevano che non aveva ancora vinto niente. La prima volta che ha vinto a Manchester nel 2003 non ha avuto nessun tipo di rivalsa nei confronti di quella considerazione. Lo stesso stato d'animo che ho visto in Stefano Pioli a Reggio Emilia, che ha pensato solo a festeggiare, era semplicemente in pace con se stesso, senza nessuna rivincita sulle considerazioni precedenti, sulle vittorie. No, perché sinceramente non ho mai, non dico che non ho mai fatto caso a quello che si diceva fuori, però era anche normale, insomma, anche se poi dopo io ho sempre avuto una mia idea e credo che sia sbagliato considerare vincenti solamente gli allenatori che alla fine vincono qualcosa, ma credo che sia da considerare vincenti e soprattutto gli allenatori che in ogni situazione hanno centrato l'obiettivo per il quale erano stati, tra virgolette, messi sotto contratto, quindi io tante volte ho fatto bene. Poi per vincere ci vuole un insieme di cose, soprattutto ci vuole un club, una dirigenza e dei giocatori di certi livelli. Io quando li ho avuti, poi dopo ho approfittato dell'occasione. A chi, a cosa, a quali momenti, a quali persone, a quali situazioni dice grazie Stefano Pioli il giorno dopo la vittoria del titolo? Beh, assolutamente al club, a Maldini e Massara che mi hanno scelto quando potevano chiaramente scegliere tantissimi altri miei colleghi e soprattutto a loro, quindi i club dirigenti che mi hanno sostenuto, soprattutto nei momenti delicati, perché è facile sostenere un allenatore quando le cose vanno bene, quando i risultati vengono. Ma tra noi si è creata subito una sinergia che ci ha permesso comunque di confrontarci spesso, di dialogare spesso, di discutere spesso e questo ha fatto sì di provare a trovare delle soluzioni, di provare a trovare delle migliorie nel mio lavoro, nella costruzione della squadra. Quindi grazie a loro e grazie ai giocatori, perché senza giocatori di talento non si può vincere un campionato così difficile, così complicato come il nostro, contro avversari così forti, quindi il grazie di cuore va ai miei giocatori. È vero che io ho messo tutto dentro il mio lavoro, tutto, tutto, perché da quando sono in Mila, ma sempre, ma comunque da quando sono in Mila mi sento qualcosa dentro di diverso e quindi ho messo sul campo tutti i giorni in massimo impegno, massima passione, massima volontà e loro mi hanno dato veramente tutto e di questo li ringrazio veramente tanto, perché solamente così si può crescere insieme e fare un percorso così positivo, così continuo come abbiamo fatto noi. Nel maggio del 2021 a Bergamo il Mila si qualificava per la Champions League ed erano otto anni che non accadeva. Sarebbe stato forse anche normale un certo tipo di appagamento, invece l'8 luglio avete iniziato una nuova avventura e non penso nemmeno ad una particolare pressione messa dall'allenatore sulla squadra. La sensazione è che vi sia stato naturale non sentirvi appagati e siete ripartiti per una nuova avventura. Sì, sì e credo che in questo vada molto merito al mix di giocatori che si è creato, a quella sintonia, nel senso che i giocatori più esperti sono giocatori con una mentalità incredibile, mi riferisco a Chiaramente Azzata, a Simon, a Olivier, una mentalità incredibile che vogliono sempre competere, vogliono sempre competere per vincere, quindi loro hanno trasmesso sicuramente questa mentalità nel quotidiano e poi accompagnati invece dalla gioventù degli altri giocatori che chiaramente pensavano di migliorare, pensavano di crescere e noi, ripeto che dal primo giorno di quando siamo ritornati, abbiamo pensato a migliorare il campionato scorso e la domanda che spesso gli facevano i giocatori è che se finissimo ancora a secondi saremmo contenti e non saremmo stati contenti. Questa è stata la motivazione e l'ambizione che ci ha spinto anche a cercare di crescere, di lavorare tutti i giorni con grande attenzione e grande applicazione per continuare a provare a fare sempre meglio. Ecco, ma come ha fatto Mr. Pioli l'8 luglio, il giorno del raduno, a beccarli subito le AO e tonali? Perché fin dalle prime conferenze stampa Stefano Pioli ce l'ha detto subito, li ho visti diversi, cioè un brivido, un fremito, uno sguardo, cosa è successo? Come ha fatto il Mr. a beccarli che erano cambiati? Beh, ma è l'occhio di un allenatore, sono sensazioni che uno ha mentre io ho visto il primo allenamento e il primo allenamento mi sono girato dai miei collaboratori e ho detto, porca miseria, è successo qualcosa, gli è scattato qualcosa, ma succede, succede con i giocatori giovani, succede soprattutto con i giocatori giovani di talento e con grande disponibilità. E ho trovato veramente dei ragazzi volenterosi, intelligenti, non permalosi, è un'altra data molto importante perché io sul lavoro sono rompi e quindi loro sono stati molto bravi a capire che il nostro obiettivo insieme era quello di continuare a crescere e migliorare, quindi l'ho ritrovato cambiati dopo l'estate, dopo la vacanza, si vede che avevano avuto bisogno probabilmente di metabolizzare il lavoro, di metabolizzare tante cose, di convincersi che quella era la strada giusta. La colonna sonora del nostro scudetto è Pioli is on fire e quando lo si canta tutti assieme in uno stadio trasmette brividi, trasmette gioia, trasmette slancio. Hai mai pensato, mister Pioli, che quel coro nato durante il lockdown, quando è nato sul vostro pullman c'erano gli stadi vuoti, mai pensato, mister Pioli, che tutti quelli che lo cantano adesso allo stadio, prima lo cantavano nelle loro case insieme a voi sul pullman. Eh sì, sì, lo comincio a pensare, lo sto comprendendo adesso, quello che è stato il nostro percorso e quello che possono avere immaginato i nostri tifosi e credo che è un'emozione incredibile quella che vivo tutte le volte che sento il coro fatto dai nostri tifosi, ma credo che la cosa più bella è che me l'hanno fatto quando ancora non avevo vinto niente e quindi credo che le cose che nascono così in modo, io ho sempre pensato che al di là dei luoghi comuni, al di là di tante banalità che si possono essere nel nostro ambiente, credo che alla fine i tifosi invece sappiano riconoscere la qualità, la serietà di chi lavora nel proprio club e quindi questo credo che sia il riconoscimento più bello e più grande di tantissimi altri titoloni o articoli che ci possono essere stati o ci potranno essere in questi giorni dopo una vittoria così bella, ma quel coro, quell'energia che mi trasmette e quel senso di stima comunque nei miei confronti e di rispetto veramente mi riempie di orgoglio. Mister, un modo normale di fare calcio è giocare più o meno nella stessa maniera, dare sempre alla squadra la sua zona di comfort sia come collettivo che ai singoli, invece noi abbiamo visto Teo Hernandez e Calabria a Bergamo, abbiamo visto Benna Serra a Napoli, abbiamo visto Tonali a Verona, vediamo a volte tante novità ad hoc nel Milan e se un allenatore, se tutto uno staff riesce a muovere così la squadra vuol dire che c'è una disponibilità speciale da parte dei giocatori nei confronti dello staff e viceversa? Assolutamente sì, è stato così, è chiaro che è stato un percorso che per molti è stato un percorso di due anni e mezzo, quindi tra esercitazioni sul campo, tra colloqui individuali, tra video collettivi individuali si sono messe delle basi per avere comunque dei concetti di gioco molto chiari, i nostri sono molto chiari, prepariamo partita per partita per cercare di avere delle soluzioni vantaggiosi in entrambe le fasi di gioco e non sempre, e non sempre, le soluzioni sono le stesse e le identiche rispetto alla partita precedente perché spesso cambiano le posizioni degli avversari e noi li teniamo in grande considerazione mantenendo il nostro stile di gioco e soprattutto la nostra identità e soprattutto credo alla nostra mentalità che credo sia stata la nostra amma migliore. Mister Pioli ha fatto cinque gironi interi alla guida del Milan, il primo 41 punti, ritorno 19-20, l'anno scorso 43 punti e 36, quest'anno 42 e 44, ma la competitività di Mister Pioli non è stata saziata dai quattro gironi oltre ai 40 punti, la competitività di Mister Pioli è stata pungolata da quel 36. Sì, sì, assolutamente, ma come sempre quando parla Paolo Maldini bisogna ascoltare e capire cosa c'è nel DNA del nostro club, della nostra storia, quindi noi dobbiamo pensare, adesso è chiaro che oggi festeggiamo ed è giusto che festeggiamo perché è stata un'annata importantissima, un risultato incredibile, ma dobbiamo pensare tutti ad alzare l'asticella o comunque pensare di fare meglio anche l'anno prossimo perché siamo il Milan, perché la storia che noi abbiamo appena cominciato a scrivere fa parte comunque di un passato glorioso e vogliamo cercare di tornare a essere competitivi con continuità sia in Italia che anche in Europa, quindi dobbiamo pensare a fare sempre meglio e il fatto di avere dei giocatori così motivati, anche così giovani e gli esperti così competitivi, secondo me è la strada giusta per continuare a pensare in grande. Mister, l'ultima domanda che voglio farti riguarda il futuro, riguarda il domani, riguarda anche un po' la Champions League, saremo nella prima urna, l'anno scorso eravamo nella quarta e quando è arrivato il sorteggio ci hanno detto tutti girone terribile, però c'è stata, il Milan è arrivato quarto, ma c'è stata tanta vita, c'è stato tanto spirito dentro quel girone, rivedere il Milan vincere al Banda Metropolitano, vedere il Milan che avrebbe meritato più da altre partite, ecco, non è da lasciare da parte quel girone, c'è una parte dello spirito di quel girone da portare dentro la prossima Champions League, mister? Beh, io credo che molto della crescita della squadra sia arrivata soprattutto attraverso quelle esperienze lì, perché lì abbiamo capito dove sta il livello veramente alto e lì abbiamo provato a salire di gradino in gradino per avvicinarsi, chiaro che abbiamo incontrato delle squadre fantastiche, una tra l'altro è lì dopo le finali di Champions e quindi ci ha aiutato e anche ci ha motivato anche le prestazioni così così, credo che le prestazioni non positive sono state entrambe contro il porto, dovevamo fare sicuramente meglio, però quello ci ha aiutato a capire tante situazioni, quanto sia diversa l'intensità nel calcio europeo, quanto sia diversa anche la qualità e quindi quello è l'obiettivo, competere anche in Europa con formazioni molto forti, poi dopo chiaramente la Champions è in un livello altissimo, è vero che probabilmente essere in prima fascia ti aiuterà, ma è chiaro che dobbiamo pensare a essere molto forti, molto competitivi perché sarebbe molto bello passare il primo giro. L'ultimissimissima cosa, prima di Sassuolo Milan un tifoso ti ha chiesto ti sei mai sentito così amato come qui al Milan? La risposta è stata no, la domanda dopo Sassuolo Milan è è bello sentirsi amati nella propria professione. Sì, sì, è una cosa fantastica, una cosa fantastica che mi gratifica tanto e che mi riempie di emozioni, quindi me le sto assaporando e gustandole tutte perché credo che sia giusto così perché nello sport come nella vita passa velocemente, quindi è chiaro che da domani saremo già concentrati a preparare la prossima stagione, a parlare con Ricky, con Palo per capire dove e come poter intervenire. Però adesso gustiamocela tutti insieme perché abbiamo fatto veramente una grande cosa e credo che tutte le componenti abbiano fatto veramente uno sforzo incredibile, quindi diamo il via alla festa. Grazie mister. Prego.